Facciamo un po' di chiarezza per i cittadini abruzzesi perché sono usciti articoli di giornali e post tra cui anche quello del Presidente Marsilio che affermano che la validazione del progetto DECDEME che riguarda le aree X2A e X2B di Bussi sul Tirino, le aree del SIN, quindi quelle della discarica sarebbe un grande risultato portato avanti dal nuovo Ministro dell'Ambiente. La validazione è un procedimento esclusivamente tecnico che si aspettava da oltre un anno e che doveva essere concluso in tre mesi. Probabilmente ci saranno state delle richieste di integrazione che li hanno fatti giungere fino ad oggi. Non è assolutamente un successo del nuovo Presidente Meloni come vuole spacciare il Presidente Marsilio. E facciamo anche chiarezza sull'inizio della bonifica dell'X2A e X2B. Quello che c'è stato qualche giorno fa con questa validazione è soltanto il primo passaggio. avevano annunciato che la bonifica delle 2A e 2B cominciavano il primo di ottobre. Invece ci troviamo ancora al primo passaggio. Questo significa che adesso verrà affidato la progettazione esecutiva al raggruppamento temporaneo di imprese che si chiama appunto DECDEME. Verrà quindi fatto questo progetto esecutivo. Questo progetto esecutivo dovrà essere sottoposto anche questo a validazione e poi soltanto successivamente potrà essere iniziata la bonifica. Ma questo progetto esecutivo potrà far sorgere quei problemi che in tanti casi il Partito Democratico ha sollevato. Il primo è quello dei costi effettivi che verrà fuori soltanto da questo progetto esecutivo. E se i costi effettivi saranno superiori a quell'importo che è stato stanziato dal governo di centro-sinistra, c'era Legnini, c'era il Presidente Marini, a proposito di questi fondi sulla discarica che vennero messi nella legge del terremoto e dell'Aquila, vorrà dire che dovrà intervenire la Regione in forza di un preciso articolo di un accordo di programma che c'è stato tra lo Stato e la Regione Abruzzo. E quindi la bonifica potrebbe fermarsi. Chiarimenti e dubbi che noi abbiamo sollevato. Abbiamo chiesto al Presidente Marsiglio di verificare di verificare e non sono stati mai verificati. Lo faremo noi con una precisa interpellanza in Parlamento. Nello stesso tempo si guarda alla bonifica dell'area Tremonti, dove viene eseguita da Edison, che è il soggetto inquinatore. E allora la vera domanda è perché affidare la bonifica ad un privato con soldi pubblici quando Edison è stato riconosciuto soggetto inquinatore. E quando Edison viene portato ad esempio invece per la bonifica Tremonti. Cioè perché Regione Abruzzo, Arta, Provincia di Pescara, Comune di Bussi hanno proposto un ricorso contro il Ministero quando voleva che fosse Edison a fare la bonifica delle 2A e le 2B e adesso Edison viene portato invece come esempio ed è Edison che sta procedendo con solerzia in tutte quante queste aree. Avrebbe potuto farlo anche per le aree 2A e 2B e tutti questi ritardi e tutti questi ostacoli e criticità che potrebbero sorgere non ci sarebbero state. Questa è la verità che bisogna raccontare agli abruzzesi.